hai mai indossato gioielli italiani io sono maria laura berlinguer sono una blogger e col mio sito estendo i confini del marchio made in italy niente di scontato solo eleganza italiana creatività e passione oggi vi porto con me nel magico mondo dei gioielli d'artista di cristina serafini sauli fondatrice del marchio matuta gioielli dopo vent'anni come architetto ho deciso di trasformare la mia passione per i gioielli in un brand matuta i miei gioielli sono ispirati all'architettura all'arte moderna alla pittura e alla scultura su tutti emerge sempre una natura forte che gioca con le dimensioni e con la struttura la forma di un ramo nodoso una conchiglia stilizzata scarabè in multicolore si trasformano e diventano anelli bracciali orecchini e collane amo le pietre imperfette le inclusioni che sovrastano la natura le rendono uniche come unico è ogni mio gioiello il mio metallo preferito è il bronzo marrone con la sua tonalità ramata perché ha un colore caldo e una bella struttura uso però alle volte anche l'argento e l'ottone i miei gioielli sono in vendita nei migliori negozi italiani ed io sono felice di aver trasformato la mia passione in lavoro e quindi che cosa possiamo dire a cristina scommetto che tutti voi non vedete l'ora di indossare i suoi meravigliosi gioielli grazie 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 grazie